Allora, sono qui con Ciro, Ciro Giustiniani. Ciro, dimmi qualcosa. Qualcosa? Qualcosa due volte? Qualcosa due volte. Sono felice di essere in Italia, di essere a Milano. Mi diverte molto sta cosa delle nomination. Infatti, è emozionato, l'ho detto anche a casa. Mia mamma ha detto, su che canale lo fa? Ho detto, no mamma, non è in televisione. Allora ha detto, in radio? Non è in radio. È un fatto più importante, perché oggi magari una cosa va in televisione, in radio diventa importante. È una cosa per me importante stare qui, avere a che fare con tante persone che masticano cinema. Io che mastico, è vero, al di là del cabaret, la comicità, essere qui. Poi essere in nomination con altri tre ragazzi che fanno comunque parte di una trasmissione comica, altrettanto comica. Per me è una cosa che mi regnero orgoglio. Io sono proprio l'invito di orgoglio. Poi ci sono pullula di napoletani, ho visto che ci sono parecchi napoletani. Io pensavo, ho detto, l'anno prossimo venite voi a Napoli a questo punto, visto che siamo tanti napoletani. Sono contento e sono anche felice di aver fatto un'intervista con te, devo dire la verità. No, sono contento, mi piace il posto e sono contento. Senti, quando è che adesso realizzate le prossime puntate? Le prossime puntate ci saranno l'anno nuovo, da febbraio, marzo circa. E poi io invece sto preparando un spettacolo teatrale che inizierà a girare, scritto da me, Alessandro Siani e Pino Imperatore. Partirò da Napoli con il Teatro San Nazaro, poi vediamo se riusciamo ad arrivare anche qui a Milano. Vi raccomando, voi iniziate a farmi un po' di pubblicità. Facciamo la pre-vendita. No, ma no, non tanto per la pre-vendita. Risponite la voce, ditelo in giro. Ti ringrazio tantissimo, grazie. Grazie a te, grazie a te, grazie a voi. Ciao.